Mister Dionisi probabilmente l'ha spinta ad un certo punto alla sua squadra, nel secondo tempo l'ha dato quel pareggio, è arrivato subito quel gol preso a freddo, ha inizio ripresa. Sì, abbiamo fatto una partita positiva, come diceva il mister del Teramo, loro hanno giocato di rimessa, ci hanno messo in difficoltà perché ci concedevano pochi spazi nella metà offensiva, però i ragazzi sono stati bravi. Sì, purtroppo nel secondo tempo aver preso gol dal nulla, fondamentalmente da un calcio d'angolo, anche calciata abbastanza lentamente, è andata a finire proprio sul secondo palo. Fortunatamente per bravura l'abbiamo rimessa subito in piedi, peccato non aver ottenuto quello che meritavamo perché poi credo nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni. Però insomma non posso che fare complimenti alla squadra perché la reazione è stata stra positiva, la prestazione è stata positiva, dobbiamo calarci ancora di più in categoria perché è una prima volta che prendiamo gol su palo inattiva, effettivamente l'abbiamo anche fatto su palo inattiva, però insomma non recrimino nulla dai. Prestazione anche condizionata la vostra, da due infortuni, prima Sereni in apertura, poi Rossi poco prima di prendere il gol? Sì, un peccato per i ragazzi che si sono fatti male, speriamo che non sia nulla di grave, però chi è entrato ha fatto bene, quindi sono contento di chi è entrato, di chi ha giocato, purtroppo loro due sono dovuti uscire a causa infortunio, però fortunatamente ci sono cinque cambi e ne ho a disposizione bravi e oggi l'avete visto insomma ecco. Abbiamo visto quando è entrato un Lanini che aveva davvero voglia di farsi vedere e di trovare il gol? Sì, come tutti, come tutti, Lanini si è messo a disposizione, la squadra l'ha aiutato a creare diverse occasioni, ha calciato un po' di volte in porta, siamo stati magari poco lucidi nella scelta finale o un po' lenti nella conclusione, però insomma, ripeto, sono contento di tutti, ora non mi soffermerai su un singolo, ecco.